www.feyyaz.com E' tosto questo! Ciao b-boss! Dai squadra! Ci sono lì cazzo! Wow! Non dividiamoci! Porca nozze! Bloccali! Cosa sta facendo? Vero! Fagli a pezzi, tra! Com'è l'assassina? Ci raggiungerà! Vero! Anderà a sustizio ai uomini! Ti raccoglieremo a dovere! Ehi! La redattura sta copando la squadra! Ehi! Passiamo le quadratiare dentro! Quella no! Spero che camora gli stacchi la testa! Ehi! Qualcuno lo spago è lei! Il trattatore rende fuori con il combattimento! Per vincere! Dobbiamo eliminare il pelatone! Questi pazzi ci faranno arrivare tardi all'appuntamento! Sparati in fretta! Roker! Roker! A me l'assassina! Ehi! 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 BOOM! C'è qualcosa di strano! Sei duro quello strano qui! Anche questo è vero! Vedi di ripigliarti in fretta! Vai Grut! Vedi di ripigliarti in fretta! Ottimo! Che succede se Gamora non arriva? Quando capiranno che siamo sulla Milano ci attaccheranno di brutto! Non lascerò Ovet un'altra volta! Ovet? Vuoi dire Gamora? Sì! Certamente! Quella letale! Ovet! Non mi ha chiesto di fidarmi! Ed è ciò che... Mentre... Ora! Rilanta! Odio! Tutto! Di! Questa! Nave! Via! 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 saltate! saltate! Giazzato! No, 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 no! Non so! Sì, restando qui, faremo una brutta fine, è l'ascensore! Cazzo, cazzo. Hai fori. Will, non perdere tempo! Basta, venite tutti qui, fresco! Cazzo, cazzo, cazzo! Cazzo, cazzo, cazzo! Milano dovrebbe essere in arrivo. Dovrebbe. Sì, beh, non posso fare di più. Il tempo per raggiungerla è poco. Oh, merda. Sì, modalità silenziosa, ma non so che razza di sensori abbia mica su questa nave. Andato! No No Oh no! Eeeh, il progetto! Non è che il progetto! Eeeh, il progetto! Non è che il progetto! Non è che il progetto! Non è che il progetto! Non essere triste! Continua colpito di filo stordisti! Luce! E una di le gatti! Arrendetevi! Siete chiaramente in vantaggio! Sono preso il testone! E' una mia impressione! Oggi facciamo il sommetico? Quel coso è torto! Ahaha! 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 Ora si che ragioniamo! No! Ok, come procede? Non mi parlate! Se ho degli esplosivi tra le zampe! Ora mi manca tanto camona! Te lo dico! Non ama giocare di squadra! Se quello appena tornato può averci mollati! Dai! Oh! Questa mattaglia deve finire! I sono adorando! Ciavolo! I robot gigante! Vai cazzare bene! Dai! Quel coso è torto! Dobbiamo darci gatti! I due sparsi sono mani! sono liquidando questi passi fanatici dai ho beccato il tiro alla prossima oh che cazzo molto male l'ho mandato c'è troppo rumore c'è troppo rumore Oh! Oh cazzo sta succedendo! Non banquissimo! E' andato! Non ho il tempo per chiacchierare! Cerco di salvarci le chiappe! Lascia che le distrugga! Spegnigli le luci! Giù c'è la fine! E' spazio in abbondanza! Oh! Venete i bastardi lontani da me! E' andato! Minchia, sei stata tosta! Corri, 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 corri! Corri, corri, corri! Nooo! Dove porta questo? Fuori! Fuori dove?! E' fuori! Nooo! 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 Dove porta questo? Fuori! Fuori dove?! E' fuori! Si ma fuori dove? E' fuori! Uh! E' stato 20 ragazzi! Capire di nuovo! E' un caderno! Venuti cattolo! Ah! Nello spazio! Nei fuori! Nei fuori! Ah! Nello spazio! Ah! Nello spazio! Ci stiamo congelando? Ci stiamo congelando? Vabbè, si! Ottimo! Perfetto! E questa è la fine dei Goldiani della Glassia! E questa è la fine dei Goldiani della Glassia! Un'altra è la fine delle le sue! E questo funziona così! effettivamente! Non è vero! Ma, è vero! Un'altra è un'altra! Un'altra è un'altra! Il mio sia un'altra! Non è un'altra! Non è un'altra. Dobbiamo tornare indietro Sei impazzito Adoro i massacri, lo sai Ma ricordati che ci abbiamo quasi rimesso la pelle Che facciamo con Gamora? Ha fatto la sua scelta Quindi vuoi abbandonare Ma che cazzo, non si abbandona E se fosse Groot vorresti abbandonare anche lui Io sono Groot Ehi, piantala, non stiamo parlando di questo Ah no? Dovremmo essere una squadra E le squadre non abbandonano nessuno Perché non vai a raccontarlo al dannato esercito di robot E di fedeli indoltrinati da cui siamo scappati per un soffio? Gamora! Gamora! È quello Sì Come sei tornato? Non ha importanza Ho fallito Raker è vivo Per ora Dobbiamo tornare indietro Non possiamo abbandonare Miki La trasformerà in qualcosa Bla, bla e ancora bla Quindi hai avuto un pessimo paparino e un'infanzia orribile Povera Rocket Rocket, perché fai così? Indovina Non sei l'unica a cui è andata male, sai Ma non per questo dobbiamo suicidarci tutti Perché una specie di prete fuori di testa Sta facendo Sorpresa Cose fuori di testa Se adesso torniamo laggiù Siamo finiti Finiti Morti Io sono Groot Preferisco morire con onore Che senza C'è ragione Gamora Rocket sta creando un po' il cazzo Ma che cavolo l'hai preso? Io sono Groot Beh Quindi ci volatilizziamo? No, non ancora Piuttosto Prima dobbiamo contattare Cosmo Io sono Groot Buona idea Ma non risponde al teletrasporto Ok, ci sono altre opzioni Non abbiamo trasmettitori Beh, in realtà potremmo averne A quanto pare Non erano incasinati Come mi era sembrato Davvero? Groot potrebbe contattarli Ok Ma perché vi comportate così? Perché la pazza omicida Si sente a chiudere del solito Ciao